Bambini dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi, protagonisti ieri mattina in Piazza Angelo Scandaliato dalla prima vendita di gadget con materiali riciclati da loro stessi prodotti. Il tutto con sullo sfondo la raccolta di fondi per alimentare la campagna e riapriamo la biblioteca comunale. Io ho preparato delle uova appunto con dei nastrini, delle stoffe e ci siamo divertiti davvero molto a prepararle. Io ho preparato un vasetto che si può utilizzare sia come posacenere, come salvadenaio, poi una calamita che è a forma di emoji, quindi di faccina che poi viene utilizzata come calamita e infine abbiamo fatto delle uova che abbiamo rivestito con la carta crespa e che poi abbiamo decorato con dei brillantini e con delle varie stoffe. Io invece ho aiutato un po' gli altri perché non sono molto bravo in questi lavori manuali e quindi ho aiutato a mettere le colle, i nastri e così. Anche se non sono appunto bravissimo in questa cosa è stato divertente perché abbiamo fatto un bel progetto e poi il ricavato servirà per fare una cosa importante per Chuck. L'iniziativa è stata coordinata da Agnese Sinagra. L'iniziativa è stata generata dall'adesione della scuola al comitato civico Riapriamo la Biblioteca Comunale e nel contesto abbiamo anche avviato una raccolta fondi all'interno della scuola stessa però abbiamo voluto coniugare questa raccolta fondi anche ad un compito di realtà vero e proprio per i ragazzi. hanno prodotto tutta una serie di gadget che vanno appunto dalla trasformazione di vasetti in vetro alla creazione proprio di uova decorative per poter raggiungere un obiettivo molto più alto che è quello di sensibilizzare appunto i ragazzi all'approccio al bene comune, cioè alla salvaguardia al bene comune. Quindi avendo prodotto tutti questi gadget i ragazzi li metteranno in vendita in questa mattinata e il ricavato sarà da loro stessi consegnato al comitato civico Riapriamo la Biblioteca Comunale per cui insomma si è coniugato appunto si è unita l'importanza del lavoro manuale artigianale all'obiettivo finale che è quello appunto della raccolta fondi e della salvaguardia dei beni comuni. Per la cronaca la vendita ha fruttato 325 euro.